Ciao amici, come affrontate queste fredde giornate invernali? Non vi sentite più stanchi? Il modo migliore per iniziarle al meglio è con una bella e nutriente colazione. Lo so, non sempre si dà il giusto peso al momento della colazione, capita di mangiare qualcosa a caso o peggio di saltarla perché si ha poco tempo, ma la colazione deve fornire tutta l'energia necessaria per riattivare il metabolismo e farci iniziare bene la giornata con le giuste energie. È io che ho sempre cercato di alzarmi col piede sinistro per far andare bene le cose, ma cosa c'entra? Quella del piede sinistro è un'altra storia, magari ne parleremo in un altro video. Oggi invece parliamo dei peggiori cibi da evitare a colazione. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Cibo piccante. Spezie e cibo piccante vanno evitati perché possono irritare lo stomaco e causare problemi di digestione durante la giornata. 2. Bevande gassate. Sono piene di zuccheri e per nulla nutrienti, da bandire a colazione. Decisamente meglio un succo di frutta biologico e senza zucchero. 3. Pomodori. No, anche i pomodori contengono acido tannico e solanina che irritano, soprattutto a stomaco vuoto e di prima mattina. 4. Dolci in quantità. Dolci come biscotti e croissant accompagnano spesso la colazione, però una sana colazione dovrebbe essere senza zuccheri. Se proprio non se ne può fare a meno, meglio in dosi piccole e controllate. Troppi zuccheri creano dipendenza, tolgono energia e fanno male alla salute. 5. Caffè. Qui la maggior parte degli italiani resterà male, ma il caffè ha un effetto acidificante, provoca infiammazione, gastrite, attacchi di colite e stimola le surrenali in modo artificiale con la caffeina. Allora, qual è la colazione ideale? Ne ho parlato in molti video perché è un argomento gettonattissimo. In descrizione trovate la playlist dedicata con una selezione di prodotti sani per chi vuole qualche consiglio su cosa scegliere. Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. Avere cura della salute naturale è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile per fare una buona colazione. Mangia sano e vivi meglio!